Io ritengo che il committente sia stato un po' superficiale perché avrebbe dovuto specificare e avrebbe dovuto anche imporre, questo lo dovrebbero fare tutti, l'applicazione dei contratti di appartenenza. Un escamotage ben congegnato, quello di richiedere la qualifica di operatore sociosanitario applicando però un contratto di addetto alle pulizie. È il caso delle 15 unità lavorative impiegate al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro. E' finito con un rimpallo di responsabilità il vertice convocato per discutere dei contratti tra la ditta che è in gestione l'appalto e i sindacati. La copservice si è infatti spogliata di ogni responsabilità puntando il dito contro le richieste che l'azienda ha avanzato nel capitolato d'appalto richiedendo la qualifica di operatore sociosanitario ma non l'applicazione del relativo contratto. Io credo che ci sia stata poca chiarezza o un po' di superficialità quando è stato fatto il bando perché è stata inserita questa certificazione per gli operatori però non è stato ne specificato se erano quelle le mansioni da svolgere. Una questione non solo squisitamente sindacale questa ma che rischia di avere ripercussioni anche sulla qualità e l'efficienza dei servizi erogati nell'ormai sempre sovraffollato pronto soccorso dell'ospedale. La diatriba è se questi lavoratori che hanno la certificazione di OSS devono essere inquadrati con un contratto sanitario quindi con una paga probabilmente diversa o meno. Luana Costa per la Cinius 24